Perché sono morto Ma non ci vuole ma no e sto facendo a partire Stavo facendo a divertirla live ma io non volevo morire Di loro creeper Noi abbiamo cercato di parlare in me non ho avuto a riga quanto ferro qualcuno venga da me con un piccone di Arrivò dove sei dove sei dove sei spiegato Amato e strega vai via matteo matteo vai via Aiuto non è vero io scappo sono stato avvelenato male Ti salverò io matteo dove finita dove non sono scappato Dove è quest'uomo E' la strega per l'arte Mi sono stato avvelenato male Pensavo fosse L'ho uccisa l'ho uccisa va tutto bene Pensavo fosse un innocuo Un innocuo Abitante del villaggio Non ci sono abitanti del villaggio qua matteo devi saperlo molto bene Ah io sto morendo sto morendo sto morendo sto morendo Tre cuori Ho fatto il portare per il sottomondo Due cuori e mezzo due cuori ci avventuriamo Un cuore e mezzo un cuore non so che fare Ma andato rimane commentavo Maggiro due uomini e mezzo Sei d'accordo sei steso Qualcuno che avviene da me? No Ma dove sei anche tuxox? Ma io sono lontano Io vedo sono matto Non lo voglio dipendere ma Ricordi dove sei andato l'ultima volta con il deserto? E' la Eh vabbè Verremo in futuro allora Dai Sarà di qua Vabbè ho capito come è dentro del mondo Che servono per la mia zuppa Matteo come faccio ad aggiungere i giacchi? Allora devi girare attorno a una chiesa in senso anti-orario per sei volte Poi Devi guardarti allo specchio per altre sei volte Ah troppo ok ciao Matteo ma la cosa che hai costruito che cos'è? La casa nostra? Si si è la nuova casa E' una banana Ehm Ehm Com'è che si chiamava Matt? Non lo dimentico sempre Cosa? Ehm Torre Del cibo? No Quale cosa? Torre del potere Torre ee 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 Ermenegilda Cosa vuoi dire? Ah no Ermenegilda Cos'è? Ermenegilda o Zegna E questa è la parola che stai cercando Come si chiamava il nostro condominio nell'altra mappa? Kelvin Tower Lord Kelvin Tower E' lei? Kelvin Tower E' la Kelvin Tower numero 2 questa Lord Kelvin Tower Dacobo ce l'hai un arco No che cosa chiedi? No qua No vabbè dopo che andiamo nel sottomondo Si Ah si si Figurati Ehm Mi aiuti a scavare in una zona Ehm Dove qua dici? Aspetta No 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 Io vi dico solo Due indicazioni per il sottomondo Allora Se rinasce in un posto Ma porca In una galleria Che non c'è niente di niente Se andate a sinistra Non c'è niente praticamente Finisci in un burrone Se vai a destra Ho creato un passaggio Che ti porta in un posto E da lì poi Devo ancora proseguire l'esplorazione Che non ho avuto tempo Quindi quando uscite a destra Allora io ho fatto un po' di Io stavo scavando adesso Fammi fare due ponti Qua Aspetta che ti do un po' di Ti do undici torce A me? Io voglio una torcia E viene prenduto la torcia Aspetta non vuole torce Matt No? Grazie Tu lo sai che cosa vuoi? Tu vuoi la pietra luminosa Quella del sottomondo Ah beh Giacobbo Io prendo delle palle di slime Se ti possono servire No Neanche un po' Ma non sei una per gli incantesimi Qua non so come fare Vabbè Lo direi Ah Matt Io ancora ho un sacco di Di orite Ti serve ancora? Posso usarla Ma se ce l'hai già qua Che me la puoi dare? Eh no Ti dobbiamo prendere Vabbè Conservala Conservala Sì sì Giuro Quando avremo abbastanza pietra rossa Quando avremo abbastanza pietra rossa Ti faccio l'ascensore Per venire in questo fatto Per quanto sia stato utile non ci voglio anch'io Ti hai trovato Xoxx Batman? Sì No il pokemon di storia luna Ho trovato Batgirl Che se la faceva con Robin Con robokiller Sai cosa? Sai cosa mi sono Eh? Cos'è successo? Ok vedo dire Sai cosa mi sono mancate le tue battute? Le mie battute? Le mie battute? Sì Le tue battute? Le tue battute? Eccola E che carino qua che sta venendo Ma anche i saccoli sono mancate Tantissime infatti vedi come la dice Lava 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 E qua non è la mia battola Uno due tre Lava 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 come lava Ma c'era anche del ferro lì E' quello il problema Aspetta 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 faccio 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 Ce la possiamo fare Ora Aspetta Ma aspetta Ma porca non mi bastano Ho fatto i conti male Ma secondo me c'era ancora del vetro sotto E io scavo qua sotto Altra lava Ok di lì non possiamo scappare Metti un qualcosa Un pezzo di terra che ci faccia capire Ce l'ho di terra Perché non ti butti direttamente nella lava? Ah 2 Allora Sai cosa metto la stessa? Metto i ciotoli Vi serve carbone? No qua sotto mi sembra che c'è ancora una zona con tutto il carbone Quindi per ora siamo posti Però se ne trovi la regge No a prendere lo stesso se non trovi Un'aria abbottata raccogliere non è che ci fa schifo Ho messo una parete tutta di ciotoli e per far vedere La lava Molto bravo Ma si racconta che questa scavare 2 sì 2 no 2 sì 2 no Io voglio capire un attimo dove finisce sto Ok lì e già qua non ce n'è già più Ma non ci credo Cazzo se ce n'è ancora Un blocco di vetro mi serviva Signor Lorenzo linguaggio Meno male che Poi Quang come si può fare? Eh ma è colpa di Di Annone Che è un pericolo Potevo morire mio figlio poteva morire Cazzo che dentro Sicuramente non avrà neanche un figlio da quello che fa Chi? Di Annone Ah E sai perché lui dice queste cose qua Isacco? Perché mi piace signor Giorgio Lorenzo Eh sì dato che è tifoso di Biaggi Se io fossi figlio di Giorgio Lorenzo me ne vergognerei guarda Biaggi amico di Lorenzo allora Sì infatti Adesso L'anno prossimo diventano più di 12 comunque Ah non erano 11 Non avevamo pagato 11 milioni Sì Io ho capito 12 Con Vabbè fai 11 più sponsor dai Arriviamo a 20 Per prendere i maiali che cosa bisognava prendere? Eh dai Carote Carote No 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 Però la carota che c'è nel baule guai a te se la tocchi Fai salame Xox Scusa non la puoi piantare quella cazzo di carota Eh piantala però Non darla a impasto a migliori Ah piantala te scusa C'è Allora lasciami e poi la vado a piantare Ah che si vuoi il signorino Qualcuno che il video sta dentro casa No Di breve Che c'hai che non va Ah Giacobbo puoi farmi un favore mi raccogli sta pieta Oh 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 È successo qualcosa di brutto in questa casa Che è successo? Mi sposo un creeper Sia rotta Mi accanto Mi accanto Mi sposo un creeper se no Sì Sì Perché Xox piange? E Bingo è stato coinvolto nell'esplosione Ha avuto un problema che ti resta della roba in giro per le casse Guai ha chiamato Ah no eccolo No no niente È vivo La mia cassa per ora è questa qua sottoterra La mia cassa Mi raccomando un po' di privacy Io ho preso quella della casetta arancione Ora battiamo mentre ci siamo sto muro qui da vedere Le finestre scarseggiano Chissà cosa ci avrà dentro un qualcosa di gioco Bob No 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 Sono andato a depositare e fai prendere la pietra Oh fino a noi Allora no Isacco dobbiamo fare una cosa aspetta Cosa 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 Allora qua E mi perdo qua sotto oddio Sì devo iniziare a scriverlo Posso i biancalla? Dovrò fare dei cartelli Eh possiamo fare Tu riesci a fare un'altra cassa Isacco? No Mi sa di no Aspetta che te lo dico Sotto griglia No no non posso Non ho manco un pezzo di legno Dovrò Esacco dobbiamo riempire due casse solo di pietra Così facciamo un trofeo Allora mettere un po' più qua Quindi ci servono Un po' Qualcuno Eh appena trovo Appena torniamo su Prendiamo della pietra Ah carbone Me ne sto scavando col piccozza di ferro da mezz'ora no Vabbè 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 Ormai Io l'ho stato tenendo lì No 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 Madonna che headshot che gli ho tirato Vabbè non essere così tragico dai No e non è che ti metti davanti però Eh ragazzi ti chiede due di voi Cosa? Madonna se la conoscevo una tanto di quel tempo Ahhhh diamanti di nuovo siiii Ma vedi che sto metodo servo un sacco per trovare diamanti Aia Sono due e no eh E no eh Non era così Come cazzo era? Eh no eh Cioè ti rendi conto che abbiamo trovato più diamanti in questa partita per ora che nelle altre altre partite Si ma solo due mi scoccia un po' Fuori diamanti dai Esci lì Esci di avanti Giacomo Come ha fatto Yannone Giacomo non ricordo che non farei I corridoi brutti oscuri che sennò poi moriamo male Sbagliato Ma no vabbè non rinascino così Io prendo un po' di questo bellissimo carbene Aia Carmelo bene Quanto carbone qua Questo muro di carbone col carbone Oh Isacco ti ha mancato tanto Xox eh Qua dobbiamo sistemare sto vialetto eh E non è che stiamo qua eh Ah schifo un attivo col cervello Allora io un po' di piera continuo a delimitare questo pezzo di Ah Lava Come ci arrivo la Uh C'ho vedro Che culo Ho trovato domande Ho trovato domande Ho trovato Dicami Dicami Eh L'ho trovato Ieri Ho fatto la Ah ma sono solo due Come si chiama Cosa In destini lì la Osiride Eh Eravamo Io vabbè tra 31 Un 299 E un 310 abbiamo vinto Una partita Ma guarda che Ah una partita Eh ne abbiamo fatte due comunque eh Lì dipende anche dalla Eh oltre diamanti Non ci credo Guarda che Matteo ad esempio Quando ero anche a livello basso E di Natale Faceva più culo di 300 e basso eh Eh Stiamo qua a raccontare la verità Isacco quanti sono 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 Nel pvp è sempre stato una bestia questo qui Sto Sto metodo è servito veramente tanto Isacco erano altri sei Cioè abbiamo trovato già qua le quasi 20 Ma io non le vedo queste carote Meglio vuol dire che l'ho già piantata Tox Tox Settimana prossima inizia la La nuova Stagione di Dragon Ball No? Nuovo capitoli Eh lo so Non vedo l'ora che esce Eh Black Goku Black Goku Che secondo me è una grandissima cazzata Sto Black Goku Invece secondo me sarà una grandissima roba Finalmente si vede Goku Come sarebbe stato da cattivo Ma chi gli eserbe il libro Eh? Non so Un ha creato il libro Il libro No E lascia lì Lascia lì Non toccare quello che non è tu Non sa Non sa Vetro 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 La pietra rossa poi da darti che Potrei Farvi tutto Fammi vedere un attimo cosa posso fare No Mi sono stato piccone di ferro Scusate è rimasto un cosiddetto rosso Tra i cosiddetti Io ce l'ho ancora leggermente Ma se vado a fare Se vado a fare l'incudine Altra pietra rossa No allora risolviamo un attimo entrambi dai No no io posso farlo Faccio qua Uno slime Lo teniamo sopra poi C'è uno slime qua scusa Non lo so Secondo me Ma secondo me spawn È lo stesso Chi è che vuole avere la parte Una mucca? Chi è che vuole La parte Anche Chi è che vuole Un appartamento Al secondo piano? Io Io sono sempre stato al secondo piano Sto al secondo piano Isacco ha un argomento molto valido Io sono sempre al secondo piano Io anche l'altra mappa ero al secondo piano Io anche l'altra mappa ero al secondo piano quindi non posso cambiare Allora io direi Precidenza e più anziani Ciotola secchio Ciotola secchio Adal del anziano eh Dov'è che si fa Eh vabbè Posso insultare Dov'è che si fa Dici che è meglio essere anziano che giovane no? Meglio essere Valentino Rossi che Marchez Io direi Isacco è sotto il tavolo da lavoro Ah Però c'è una cosa che vorrei vorrei essere aver visto Volevo essere il casco di Lorenzo e della sua faccia stupida quando è caduto La sua faccia stupida quando è caduto Ah devo fare i cubi di ferro anche Le pecore col grano giusto? Sì mi sembra Dove è il blocco di ferro? Il contanto amore In fondo Sulle decorazioni Ma ti sei che mi sembravi adesso? Banderas Banderas Ho il biscottone Allora 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 Zacco Ti rendo il tuo diamante Grazie Comunque Non so se fanno il video parodia Non penso che lo fanno eh Comunque Perché? Eh È vero Ma porca Non ci posso credere Non ci posso credere Ah ho finito tutto il ferro quasi Se lo fanno non succede niente però Moro solo io qua Tanto la Dorna glielo segnala subito Per cui Ma che qua io adesso In teoria Allora Se possono fare le parodie che vogliono Perché hanno Tipo i diritti Di Di satira sportiva A quanto pare A quanto pare Il problema Invece 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 Miserino Che poi scusa se non da fastidio al diretto interessato che imitano Che male c'è Secondo me Guido Meda si diverte un sacco Lo mettiamo Secondo me Sì 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 Ho fatto sto pezzo di scale Ciotolo 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 Mi trovi al secondo piano Comunque dicevi chi è che l'ha segnalato Chi è che di segnalare video Marquez e Lorenzo Adesso solo Lorenzo Ormai penso Quando cago lo penso Perché io sono il contornato Amico del Valentino Rosi E noi due saremmo i migliori Sto aspettando il ferro Pensa se fanno il biscottone quest'anno a Lorenzo Madonna c'è che ridere No perché cosa fa Ma Aspetta Stai ancora che hai messo la zappa lì? E non lo so perché me l'ha messa Allora Dove l'ho messo Dove è andato il I miei 18 pezzi di Di quella bellissima cosa del termine del nome Ce l'hai tu Giacobbo 19 pezzi di carbone Non ne so niente io no? Perché chi ne ha fatto? Isacco Sei stato intortato Dai se ti portiamo un po' di pietra adesso Così Dammi i miei lingotti Giusto due torcine Giacobbo dove sono i miei lingotti? Dai Giacobbo dammi i lingotti Perché la tua volta ti hanno dato i 26 madonna No erano tutti i miei quei lingotti Ah erano tuoi Erano miei 22 erano 22 Erano tutti quelli che mi hai fatto bruciare Dai ho speso tutto il ferro per farlo incudile Dammi almeno quei 4 lingotti Matteo gli devo dare a questi 4 lingotti No devi darli a me No no Allora l'incudio me lo piglio io dai Allora puoi avere i tuoi lingotti Ma perché li hai buttati giù? Puoi avere i tuoi lingotti se mi porti Mille blocchi di pietra Ah Ma mille blocchi di pietra Ah non lo so perché ti ho visto fermare mi sembrava che avessi spiegato qualcosa dalla testa Era quello che volevo fare No ma la spada di ferro c'è ancora E tutta sta roba al buio? Che roba al buio? Dov'è che c'è la camera al buio? Ah no esatto Vi dico con me No non è vero Non è vero Caracca vacca Dove lo metto l'incudine? Eh lo mettiamo poi Ma lo mettiamo poi quando faremo una stanza per l'incudine Ma io inizio a posare da qualche parte No che però non puoi dire accogli Eh ma se poi morì C'è un creeper Matte c'è un creeper attento Dove? C'è la porta Io sono al sicuro nella mia casa E' molto magico E' molto magico Non sono ancora spavolati uomini maiale da sta parte No Vabbè me lo faccio questo come di più Comunque Io ho paura C'è ancora E non lo so Ho paura Ah vai via vai via vai via Chiuditi 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 Isacco se vieni qua puoi iniziare anche ad arredare Esatto cosa parlo fuori se io da quello non c'è sto più Aspetta se lo vado a uccidere Eh sono più piccato lo sento Xox parlare Sono concentrato Spero che sennò Matteo ci distializza Cos'è esploso dove è esploso che è successo Eh non lo so Boo Boo Isacco Ah oddio Lei vittì Isacco Cos'è sto coso? E' molto stiloso Ahia sono caduto con lui bastardo Ma come mai è così stiloso quell'uomo? Ma perché? Ma non mi ha pensato che non mi droppassi almeno gli occhiali Invece non mi droppato niente Ma ti ha dato un sacco di esperienze ho sentito un rumore incredibile Si quello si Si vede che Xox è impegnato perché se se ne accorgeva ti faceva la sua solita battutina Mi aspettavo il mio bellissimi occhiali Eh Matteo vieni qua Sono qua Ah ok c'era un po' di roba Ti piace la mia skirmat? Si è bellissima Sembra proprio Maze Windu Ho visto che sei Maze Windu perché non provi a... Dove è la mia pietra? Cosa stai facendo Isacco? Perché hai tolto le porte? Perché è esploso un creeper ok? Le sta mettendo le porte Ti sto rimettendo tutto Così Dove l'altro? Aspetta Vieni qui Dai Matteo che dobbiamo fare un bouquet Vieni qua in mezzo Vieni qui che ti vomito addosso questa pietra Pietra Ma regà ne ho dato qualcosa di strano nel mio nuovo abitamento? No fai schifo come prima Ho 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 È quello che mi volevo dire che mi dicevi Ma... Ah Matteo to the drive Hai presa tu quella di Orita che c'era prima sotto? Ah sì 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 glielo ho lasciato tutta qua Aspetta Sai che X-Hox non è fan di Star Wars Vi regalo una Piuma Vi regalo della carne Vi regalo della ghiaia Oh Matteo non hai sentito quello che Si ha dicendo sto ragazzo Come ci fa cagare te X-Hox Lo sapevamo che era stupido Ragazzi qua manca un vetro Ce l'avete? Matteo è cattivo oggi Ce l'avete un vetro qua Adesso ci manca che insulta l'imperatore Palpatine Che Matteo lo va a strangolare Come Darts Esatto ci vogliamo fare un giro Eh aspetta io devo depositare Prima un po' di roba Robo killer Ti metti la pietra rossa che ho? No mettila nei cassetti Sparare cuori ovunque Mi fa venire il diabete Se poi avete anche solo un vetro Ve ne sarei grato perché c'è un vetro rotto E mi sta molto male Mi dà molto fastidio alla vita No io non avevo di più e di vetro Ma come se succedo Mi dai almeno quei quattro pezzi Dai che mi faccio un testone Per proteggermi un po' Se ne erano cinque No ma mi basano quattro Tanto ne ho ancora Xoxo che cosa hai preso Dalla mia cassa Dalla mia cassa Che cosa devo prendere? Non lo so Trovo che prendere Che cosa hai preso Che mancano tre cose almeno Ho preso le patate Che l'ho messa a coltivare Ok E ho preso Ma no le patate non erano qua Non le vera Hai mentito Sì le patate sì Guarda sopra Mi dà fastidio che In questa cassa Non è l'altra cassa Ci sono le bestie in casa Mi dà fastidio alla vita E ho preso Un arco Per l'arco posso ancora perdonarti E basta Xoxi arrampico sui muri Ho preso un po' di terra E basta Non lo dovevi fare La terra Ma tu non lo sai Che in minecraft La terra È l'elemento più raro Che ci sia Mamma mia Tu sai che Normalmente Un blocco di terra Viene scambiato Per 27 diamanti Giacobbo Ti do due frecce Tanto non mi hai fatto Sì Mi sembra una mera Sei anche della ghiaia Che vado a scavare un po' Ho 19 pezzi di ghiaia No no ma l'ho trovata Ho trovata C'è delle fiume No più o meno Ho due pietre focaie Due occhi di ragno Sì sì pietre focaie Dammi la pietre focaie Prendite Che devi fare E devi fare i valvelli No Dove farmi le frecce Porto un po' di terra E io prevenienza Non si sa Come fai a fare Delle fricce Con la pietre focaia Matte Interessa per caso Del granito Ma io ne ho un po' Io lo metto via Magari può servire Ho 9 pezzi di granito Se ti può servire Io ne ho 64 più 19 Te lo do adesso Disse al ragazzo Che va al liceo Eh? Ti voglio la mela d'oro Disse al ragazzo Che va al liceo 64 più 19 Eh ma io non so Non lo so quanto fa È difficile come conto Eh che cribio Mi consente eh Signor Bouchard Dovrebbe sapere le cose eh Mi serve un attimo Il caracolo Qua non possiamo fare così eh Mi consenta Allora questa roba qua Ah cioè siamo in silenzio elettorale Eh infatti no Non possiamo Io non sono in silenzio elettorale Eh ma noi sì Quindi non si può fare Eh Non mi consente Eh qua Qua se no ci censurano Abbiamo un po' di cibo Eh io sono delle patate arrosse Eh però anche a Roma non si vota Giusto Xoxo Ah no a Roma sì che si vota Eh 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 sì Anche a Milano si vota È vero Ma pensa te Intanto non abito a Milano Un città Per cui io posso Posso parlare di politica Sono libero C'è un cittadino modello Non come Xoxo Che odia Star Wars Hai trovato nel cibo Isacco? No Non ho manco c'è Spare del faro Marte cosa Quando hai scoperto questa roba qua Cos'è pensato Che cosa? Che Xoxo odia Star Wars Eh lo sapeva L'ho sempre savuto Anche quando lui non lo sapeva Io lo sapevo Mi sembra la citazione della principessa Leila quando gli dice Dice che Luke è suo fratello Lo sapevo Non lo so L'unico star Wars Che mi sono visto È stato quello là Dei Griffin Ma mi pare che Quello era Star Trek Mi ricordo Che non sa niente Non sa Batte ma quando è che Chi è che è il proprietario Del party? Eh io Non lo so No non sono io Dite che devo mandarlo via? Eh E se lo dici tu Vuol dire che Che non sei Non sei un esperto Ma se mi fa cagare Non è colpa mia Vuol dire che Vuol dire il fuoco Sopra l'uno Io gli darei fuoco alla casa Eh cosa credi Che sia ancora Intera? Matteo per la cronata La mia ignoranza Cioè Colma la mia ignoranza Tu che non sei personaggio O sei in Star Wars? Sono Lobot Scusa Perché? Sono Lobot Se tu mi chiedi Indicami qualcosa Io te lo indico Lobot Dove sono andati Gli imperiali? Lobot indica E te Matte che Te si matte Te Giacobbo Che personaggio sei? Perché posso? Un pompiere Giacobbo E te Che personaggio sei? Scusa Io sono maestro Maestro Widu Widu Isacco Maestro Widu No io sono uno di Mass Effect In questo momento Io non conoscendo Mass Effect Io sono l'imperatore Palpatina Sono uno Due Tre Quattro Cinque E poi al sei stop Guarda che bello Sberlucci Codoro Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette C'è qualche volta qua? Lord Fener Comandi Zacco prenditi delle palle di neve Lord Vader Can you hear me? Ah ho sbagliato tasto Ma porca la miseria Ok sei pronto? Andiamo? Ah che bello Soprime del mare Aspetta deposito il piccone in pietra Anche se quasi è finito Ma no quello di No quello di Scusa quello di ferro deposito Tanto Le uno di pietra Quindi le fegue erano col grano? Sicuri? Cioè 10%? Aspetta aspetta Isacco Sai X-Hox che personaggio è di Star Wars? Mm Jar Jar Binks Scusa Non è capito le script della battuta da dove non lo conosco Però per chi lo conosce Hanno già presente che persona sei Ti diciamo solo questo Il personaggio più amato di Star Wars Vero Esacco? È tornato Muori Ma non è che adesso che noi scendiamo E sarà pieno di quella gente lì che ci ammazza Vero? No no Perché Sì Nel sottomondo Dovremo Quando sarà possibile fare una cassa del nether Come si chiama? Eh cosa? Ossidiana eh? Non mi ricordo Un occhio forse Una cassa del nether Un occhio di nether Ma non gli serve il grano per le pecore Mi avete mentito Matte io inizio a prenderti minerali Marte ti serve del quarzo? Mi serve il coso delle torre, le luci Allora non è in corso Vabbè è sempre rispito Ma sì ma glielo prendi poi Tanto questo qua è facile da prendere A me basta il coso delle luci È pieno Io ti seguo Allora Allora questo è uno Due E io prima fino a qua Ho creato questo passaggio Qua c'è il castello Come vuoi vedere dalla nostra destra E anche davanti a noi Giacobbo guida turistico Ah dai esatto Occhio che là sopra Come puoi vedere C'è già gente cattiva C'è un flame Non è che ci sta vengendo addosso Ui 70 Madonna C'è c'è un graveyard che ci sta vengendo addosso Aspetta che io lo tappo un buchino qua Urche Eh sì Occhio che c'è un bel po' Io prima sono caduto Quindi sono fatto malissimo Devo portarmi più terra Esatto che occhio Che c'è un graveyard Che ci sta veramente appuntando Te lo dico Pazzo la mia bacchetta dammi la bacchetta dammi la bacchetta dammi la bacchetta ma che non può niente trofeo si trofeo bravo isacco lega lega ci sta uno zombie dentro si potrebbe da una pepita d'oro no è morto annegato talo zombie normale ciao no no tu non mi stai attaccando vero tu non mi stai attaccando no 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 ma posso spingerlo giù ti prego ti prego no prova però a tuo rischio e pericolo no 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 io vi dico solo che all'uscita del allora vi dico che c'è un gasto giacobbo c'è un gasto allora a c'è un creeper sopra l'ingresso della discesa che porta al portale b c'è un creeper sulla terrazza della casa di xox ma come vuoi tu guarda lì giacobbo legolas eccolo lì giacobbo legolas no ma bruciato tutta la roba ma dove dove andiamo come facciamo a raggiungere no no di quale sacco di qua se se cado di sotto io mi sparo vai giacobbo legolas l'ingresso a questa imponente struttura posso farlo già con un farsi cose che poi evo chi wolf che si mette a urlare trovato l'ingresso c'è una di quelle palline allora a sinistra c'è un coso sparafuogo dove sei scegliamo da che parte andare però aspetta aspetta non è che poi riusciamo a girarlo e a fare l'attacco all'apocalisse no qua penso sia chiuso vero si è chiuso prima allora io voglio solo una cosa se si trova una sella ma in reclamo a prescindere la sella da che parte è andato ah avvizzito occhiali avvizziti sacco sto qua se ti colpisce ti fa che avvelenati non mi ricordo si infatti dove è andato 50 euro e ti faccio compagnare c'è una cassa c'è una sella mia ripeto mi resta tenete oppure ma ti faccio un dono pro c'è un dono atroce uno schiaffo un cartone in the face è la ferro non è una fede all'armatura a vero vabbè vabbè vado alla me che mi pagaroni e cani rispetto a spacco sulla cassa una cosa c'era la spada d'oro cosa c'era non ci ho fatto caso c'è una terza cosa ma non mi ricordo cosa vado a tra l'altro qua sarà chiuso sì penso sia chiuso no no ma tanto da lì esci solo credo se non c'è niente sai che hanno fatto tutti gli aggiornamenti per mettere la roba nuova no ma cos'è quella roba lì c'è uno zombie avvizzito con l'armatura d'oro no no l'ho visto l'ho visto spero che quello potrebbe fare male comunque hanno aggiunto dei nuovi ma siamo sicuri che sia l'armatura d'oro si si era matura d'oro per un pompeo riconosco la mia giacca qua c'è un'altra cassa altra carne vi portiamo poi delle armature baxos e premi anche la cassa presa che non è che dalla cassa lasci scusa se si prende tutto c'è un altro vizio è lì non sta correndo corre lui fori tardo non mi avvelenato poca vita ma non dovrebbe nostro zitto quando non ho fermati fermati ok mi sono saziato qua c'è un'uscita niente di interessa con ala in fondo c'è un coso ma che palle libero tutti io in due sacco bisogno del tuo aiuto e io non posso non ho niente però vicino ai le palle di neve te l'ho dato chiedete di prendere non avevo pure morte l'altro ci vale prepotenza e c'è ciasso che cosa c'è qua ma basta star maturale 2l dai presa credo io ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho vai eccoti la sella o l'hai già presa no no ma ce l'ho la mia ah ce ne avevano tre io ho una hanno raccolta oh porco cazzo io ne ho raccolte due e una te l'ho appena data ma se le per tutti ah c'è una vizzi ti sacco dammi una mano dove sei arrivo di qua ah occhio che forse sono anche due gli avizzi ah ma cazzo quanta gente che c'è un osso ok io mi ricarico solo la vita quelle fuori dove l'altro so che c'è un altro l'ho visto lì c'è un flame vabbè tanto ma li lasciamo e li lasciamo in pace quelli da fuori sì sì qua c'è una salita con un'altra cassa aspettiamo di guardare no 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 non non salire mai non salire non molto bene ma io qua mi raccolgo sta roba la le prendiamo le verrute e ma si servono fare le posizioni però c'è la cassa che fastidio dov'è sopra eh sì però c'è solo due freddo andai sacco non lo dobbiamo andare di non dare mai più niente aspetta fammi fullare di vita perché una sinistra e una destra spalle di neri dal coppallo di neri ma non ne voglio che qualsiasi l'ho visto pure fuoco andato esatto mi stesse con me l'ho fatto cadere uno ciao fanculo c'è un'altra armatura anche quello no ancora su qui siamo pieni di armature per cavallo molto bene tutte di ferro sono no alcune d'oro io ne ho prendiamo spaglia ma cos'è che mi ha colpito ma dietro era aia no cos'è un arciere anche no 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 via via torno giù io no sono andato su io e aspetta che ti raggiungo allora quattro pezzi di ossidiana occhio che ho fatto fuori allora no potevo evitare di farmi l'arco che c'è il piccone bastardo riprendi perché io sono pieno potevo evitarmi un piccone porca bassarda no la carne guasta la lascia tutto questo poter evitare di un piccone non c'è un piccone 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 troppo aaaah non ci credo acqua non c'è chiuso se non ci posso credere la scena quando ho fatto quello che c'è da fare c'era anche l'altra salita e acqua c'è una casa ma roba di infinito tutti ricordi c'era anche l'altra salita prima e giacobbo dove aspetta mi fare fuori col mastardo per il mio pastiglio a occhio al gasto il sacco sposta risposta di tutto è lontanissimo non ci arriverò mai evitiamoli per ora perché troppo lontano e ma c'è il materiale fuori è attento che sotto nella scala che abbiamo preso c'è un c'è un cosa non mi ricordo come si chiama un flame come si chiama di qua si esce ok no 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 non mi stai uccidendo però non mi stai uccidendo però non mi stai uccidendo tu hai sempre un creeper nel tuo soffitto dovremmo andare a prendere quel materiale per malattia ma vabbè risacco finiamo sta roba di manovini perché poi ci facciamo un secondo giro hai capito che io direi di iniziare a tornare indietro per portare per portare basta mucca via mucca 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 vediamo quello che c'è ancora da prendere che andiamo sì perché si è accesa la luce e hanno stato sparando così di questi abbiamo detto che una vizzito aspetta dove sei qua qua ci sono lori aspetta arrivo arrivo io ai ai a noi da vizio di tutto che palle perdere vita così però però che stare là fuori perché è qua sotto c'è un flow ok ma dopo ti do anche la bacchetta e giacobbi ma esanque sacco torna su perché non c'è una scala che vado l'anno ma questo che comunque ti do parola la bacchetta che serve a te zoom e maiali inoculare sì ciao zoom e maiali sono una paura così quanto a un altro di qui cos'è che c'è gli sparafuoco ok faccio fuori adesso è sparando con la morte nera da quando è che morta nella foto zio uh bacchetta se un carronato può fare puto 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 la morte nella può fare psil ok boh torniamo indietro depositiamo ste grandi cose un po' mi sta a nostra prendiamo sta lucina qua vediamo già prenderlo a voi pre come se penso che c'erano zombie maiale maiale infale ma voi prima avete ucciso mio zio io no è stato box hox tipo ancora con la bracciola in mano no gustoso però si sono ammaiare poco simpatico ne valeva la pena di ucciderlo veramente pesata inizia a togliere due cubetti di terra stranzetti venire che la per sempre e poi dovresti tornare indietro scusa ok no è caduto un pezzettino due pezzettine grazie signor zombie maiale è stato molto gentile ricordare ne voglio molto ma non c'erano non c'erano il mio amico adesso lo zombie maiale io lo zombie maiale tramite la ce ne sarebbe alta da prendere facili facili dove quella andiamo dai c'è una vizzita per curiosità se poi ho riuscito a prendere anche un pochino di quarzo si qualcosa ha preso però non ho preso tanto giusto per fare 1 2 3 4 5 6 blocchi uno scheletro avvizzito cristo no ci sono anche me no come cazzo ci toppiamo lì io cogo io corro lì dentro me ne frega niente no ma manca salutato ma da dove è arrivato sto sfigato che cattiva ma no dai ma no ma no ma mattina non c'è più religione teletrasporto signor suru teletrasporto 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 come cazzo non ci riprendiamo quella roba no non mi ricordo la strada io ma a te non è trovato salvataggio è vero disattiva ma non è anche cibo non niente dove disattivarlo molto tempo fa aspettami aspettami sono anche se mi conviene correre perché tanto senza cibo muoio subito io due pezzi di pane e aveva uno che generoso a cena vizzi di sacco ma sono disarmati come la merda e che cacchio poi al massimo usciamo rientriamo gigi di divano era dritto era di no è la fine da quella matta disattiva e sci 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 ma oramai no 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 non ci si salva tutto non uscire e ormai cosa facciamo ho preso una scuola e andiamo corre corre la cerchia da ciamano esatto è un ascia so sono davana che so che non c'è più c'ha una bella crescita no le mie xl porca miseria e veloce 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 sono si prego il sacco non esiste e non so che non esiste però anche il mio materiale un caso dove cazzo arrivato a quella roburino che c'è tutto un picco di vita io devo mangiare però per scendere un bel bu fai quello che vuoi mattina devi muoverti dove sei sacco sto arrivando no ho sbagliato strada forse non c'ho cibo quando esce a destra vuoi rai non cazzo vado già sotto si ho fatto avevo fatto sinistra porca miseria non ci credo cioè c'erano diamanti in mano e io ero 4 continua sbagliare strada a occhio che c'è un gasto che spara aia 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 quando esci non ti fermare no non so più la strada qua da me aia no questa strada del portale ma cacchio arriva il sacco ho avuto ho trovato forse non si trova no non ho trovato porca miseria qual è la strada qua esaco per portare se qualcuno ha problemi nato ecco hai visto la spadino di pietra non ci credo ero già pronto qua per cavalcare il cavallo percorso tutto per prendere la luce ecco diciamo queste cose come tanto io lo mangio un attimo così mi bastano giusto 2 sbaglio eh sì te l'ho detto al gasto no devo ancora venire sotto se mi riesci sì ok arriva a vizzito risacco riusciamo a fare una corretta io sto prendendo la roba prendi la roba prendi la roba prendi la roba così abbiamo altri tre minuti almeno abbiamo altri tre minuti da come bene quello che abbiamo preso abbiamo altri tre minuti e poi materiale per farci no la scuola io ho una spada di pietra e il massimo che io possiedo una spada di pietra non ho niente 19 milano mi mancano 2 mila aspetta bene sotto io sto arrivando matte però se riesci vabbè prossimo prossimo file ok così anche matte ci prende un po' di roba di roba prendi a prendere a correre via e sappiano eh sì seppiatelo maxox e io vi copro un po' voi correte via facciamo così mi sa che avrà problemi di connessione po' meno male che sono io quella con la collezione di merda dove siete io sono già sotto sono caduto mi chiesa a qui ieri ci si attaccia il partito io sono dei partitori a caduto da un luogo vabbè dai andiamo jacobbo eh sto rimando a gast la mia pietra ok fatto fuori arcieri sacco non darmi una mano eh scusa io sono andato a prendere la più roba possibile ho una spada d'oro, arrivo occhio al vizzito io sono morto, di nuovo porco canale almeno ho portato sotto un po' di roba ho preso, ho preso tutta sta roba qua l'ho presa, l'ho presa no no no, va un po' stanno lontano va un po' di merda almeno io facciamo così io continuo a morire ok ho un elmo di ferro ho un elmo di ferro ma no Isacco guarda perché sopra c'è ancora un po' di roba eh c'è un vamp che sta salendo fate seguimi dove sei? la sai già è la strada sono dietro di te di qua prova a mettere la testa fuori a vedere cosa c'è se sei a vita piena si se no non rischiare c'è un vamp di sicuro c'è solo un vamp faccio fuori ah 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 fatto fuori il vamp c'è un vizzito è l'ultima cosa è rimasta un vizzito di merda c'è il gas che qua sta distruggendo tutto porca miseria ho fatto fuori anche l'avvizzito arrivo ok io sono alimentario pieno non posso recuperare più niente ma non c'è ah la sella dimmi che c'è una seconda non ho visto una sola qua c'è della terra non vedo altro nooo io ho due diamanti esatto dimmi che c'è degli altri non c'è un'altra no io gli diamanti non ne ho manco una eh no ma Isacco io la sella non ne ho quante ne hai tu? ah sì ho una ne ho una diamanti non ne ho manco una ossidiana hai la spada di diamante tutta la roba di diamante la spada ce l'ho di pietre non c'hai di diamante no eh ma qua c'era un buco mi sa che c'è caduto un po' rio infatti mi sa che c'è... no 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 non mi sa di no attenzione ma porca miseria tutti i diamanti perché sono sceso con il diamante c'è un flame è la occhio gas bombarda puoi dire di la mia armatura d'oro ma anche la mia di ferro non hai trovato niente dell'armatura di ferro Isacco nooo ho trovato solo una spada di pietra ma quindi tutta la mia roba in pratica non è scomparsa è anche tutta la mia cioè io non ho più niente ho trovato un arco distrutto come perché distrutto quest'altro cioè e magari delle... non lo so tutto l'oro che avevo trovato tutto il mio... almeno ho recuperato l'incudere Isacco ma anche un pezzetto che mi uccide Isacco... dammi la mano ma... nooo che palle Matte io sono con una spada di pietra io sto correndo portamelo contro sto discendendo ma sono disarmato Isacco però ce ne sono due ci ne sono due aiuto Isacco che sei tu tutte le armi guarda che sono in due no ma porco cane certo che esatto che non riesce dire le parole sconce ma chi è che ha fatto un recinto qua dove spawno io mi sei bugato il gioco aiuto non riesco a muovermi è normale Matte se devi scendere è una spada perché avete fatto un recinto dove spawno ma non riesco a fare niente c'è continua a esserci sto cazzo di... Matte ma l'hai fatto e... mi fanno perché... che recinto mi fanno so perché mi fa spawnare adesso dove c'è il recinto degli animali io non ho fatto recinti e io non faccio animali faccio un recinto degli animali la fa lex ox figurati su lex ox ha sempre colpo su 2 3 3 cazzo 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 tieni aspetta 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 cioè una squadra dietro di te okay bastardo li vedi come으로 aan p porca lì c'è alta roba qua c'è roba raccogliendo se poi ci dividiamo tutto sopra io tanto non ho portato niente ma no lì ci andiamo dopo questa parte non abbiamo ancora esplorata no prima saliamo abbiamo già perso già troppo esatto cosa cosa devo un dolce abbiamo preso tutto quello che c'è da prendere allora io ho ritrovato il mio orologio io ho una spada d'oro e non ho niente io di prezioso o due diamanti di prezioso almeno diamanti le selle una io non ne ho manco una una tu ma una e dove l'altra una paia non mi dire che voglio di nuovo se non ero morto qui ragazzi erano con un'altra parte ecco perché matte ma che confusi è successo perché è attaccato ragazzi dovrà che uccise una vina ucciso io uno di avvizzito e cioè mi ha attaccato però io torno indietro si si inizia a fare una testa di avvizzito io se c'è ancora un po di roba prende se non e se non avete tempo non avete spazio abbiamo trovato tre selle cavolo mappa arrivo matte vuoi fare un tentativo disattiva un po l'auto salvataggio per uscire vediamo da dove dovete far ricominciare ma no dai non è corretto non è corretto per i nostri spettatori non me ne fotte un cazzo non mi dice come sono morto ma porca miseria i sacchi seguisti facendo prepara da ridere di essere non posso dire parolacce allora appena te lo ripeto disattiva l'auto salvataggio ma romeno ha già salvato lo esci riova lo stesso ma le che vada assolutamente cosa da salvare non c'è rimasta niente il direi hashtag isacco liberati esci sacco anzi esci matte esci lo matte quello che ho visto non era salvataggio vero si è chiesto esci dal salvataggio ha fatto così dalla salvataggio automatico dobbiamo smettare di giocare così salvataggio automatici ci fregano solo io l'ho tolto quindi d'ora in poi più di così nasce esci all'ossidiana anche avevamo recuperato no non lo so max hox ci senti se ci senti tu hai dei problemi di nat ti rivelo questo segreto c'è sono sono un mahawk qualcuno sta venendo nel sottomondo attento giacobbo che ce l'ha vizzito dietro di te dove 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 l'ho ucciso l'ho ucciso raccogli il più che possibile qua ci sono i diamanti raccolti diamanti sul bordo del burro ma perché isaac jory nasce in mezzo a un recinto non lo so perché in mezzo a un recinto mi dà molto fastidio io ho una serie abbiamo finito ci andiamo isacco quando tu hai finito sta roba del sottomondo vieni che ti faccio vedere delle cose allora isacco io vado dall'ultima controllata la dentro vedere se c'è no scheletro scherzavo a fanculo vedi che però giacobbo le dici le parolacce per cui puoi dirle anche te esacco e che tac via via isacco almeno i nostri due elmi ci sono ancora vabbè io senza sella tu io ne ho una e ho anche solo una corazza di ma dai tutte le corazze anche io mi ero fatto la corazza completa di ferro la spada di diamanti anche abbiamo solo più due diamanti che hai e mi posso rifare alla spada io sì te li do te li do con tutti i diamanti che avevamo trovato avevamo appena detto a questa partita tutti sti diamanti ho 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 donna da paura vabbè quindi cosa abbiamo trovato alla fine io ho una sella, dimmi che anche tu c'è una isacco si ne ho una anch'io siiii due selle io direi che vado andiamo a caccia di un cavallo isacco quando ti disse quando hai finito vieni da me isacco se abbiamo le due selle sono felice posso cavalcare il maiale no vabbè poi mi porti i diamantini che mi devo riferire ma la sella una volta messa posso toglierla ma perché su tipo si è unito a me ma tra quante che farei la mia casa che sto aspettando la tua casa in pratica manca solo il pavimento è la mia il quarto piano quarto piano è allora manca il pia il pavimento e le scale non voglio essere sotto non voglio avere il piano di sopra tu sei al secondo piano non c'è nessuno sotto no sopra sopra comunque se riesci a mettere pavimento e scale poi anche senza muri inizia ad abitarci allora chi vuole già abitare al secondo piano è pronto tranne il soffit Giacobbo sai un'altra cosa positiva che è successo almeno per ora abbiamo ancora l'incudine ah ma tu meno male 30.000 pezzi di ferro ho speso tutto il ferro che avevo per farlo allora cosa ti devo dare i due diamantini eh boh basta in realtà dove sono? qui e ti do anche un elmo di ferro eh boh si non quello più distrutto vabbè nemmeno qualunque anzi no ma si entro no ma si entro no ma intanto io ce l'ho io ce l'ho ma dallo dallo axoxo anche per lui no Matte vuoi un elmo di ferro? si ah mi serve un attimo velocemente del cibo qualcuno ha qualcosa da velocemente a stare bocchiare? no cosa ho? tre cosciotti fare o non fare? non c'è a provare fare fare meno male che l'ho depositato ah io ce l'hai tu Giacobbo la bacchetta di sì ok la cosa mi serve ancora un libro che è qua a me serve del cibo dimmi che sono già cresciuti dove cazzo sono dove sono i libri Cristo sono nella in quella intermedia di cassa posso mangiare il tavolo degli incantesimi fatto poi ma adesso vi faccio la domanda da mille punti come si creano i dischi da mettere nel giradischi? penso che nessuno lo sa Matte ti ricordo che esistono i pannelli a luce solare? eh lo so lo so però non devo pensare all'uso io non me lo ricordavo lo ricordo ma davvero? sì che praticamente fanno come interruttore di pietà rossa ma solo quando c'è il sole o quando c'è ecco ma è bellissima come cosa esatto poi devi cercare un po' su internet come si creano i dischi eh ma no sai che non devi creare qua devi solo cercare ma li li trovaranno anche quelli ma non li ho mai provati ragazzi non puoi craftare senza mi dispiace ma a me non mi fa più perché avete forza trovarli anche dischi eh mi sa che sì mi sa che sono qualcosa no c'era Isacco che era tutto moggio perché te ne sei andato via senza salutare stavo piangendo ma cosa serve eh il libro è penna la scrive a me mi fa entrare Matte proprio non mi fa entrare questo mandato non invito eh speriamo ah esatto non è che hai ancora delle verruche di merda eh no manco una ah Matte io ho sette pezzi di quarzo e se ti serve poi dammeli poi sei sì adesso se mi vengono dare è che quarzo allora la spara di ferro io ho trovato uno spara di ferro è vero e stava in live una spara di pietra ma penso è che cacchi perché state perché è fatto sto burro di terra perché ci entrano i creeper non hai notato il fatto che sono esplose 400 persone davanti al nostro palazzo no perché ho avuto dei problemi di connessione sì ti sei perso delle scene etiche xbox giacobbo che ballava con la cacciatrice tipo ma qua c'è una mucca così da sola molto bella questa questa cascata d'acqua per l'isacco vieni con me dove aspetta che vieni con me devo dare un po' di roba no aspetta 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 matte aspetta dove sei ti devo dare un po' di roba eh vieni con me io ho finito ma fatela da che adesso io devo tornare sotto perché devi andare sotto subito perché c'è ancora un po' di roba da cene a trovare ma aspetta un attimo a questo punto che ho una recinzione no? non fate solo là giacobbo tu tu rifai un attimo del cibo per scendere? no fatelo tu dai raccogliti il grano che c'è lì io voglio sapere chi vuole abitare al secondo piano io sono se non c'è xox al piano di sopra e per forza che c'è xox al piano di sopra ma no c'è lui al terzo piano vabbè dai mi va bene lo stesso e allora vieni attena puoi che ti faccio vedere dov'è come funziona eh ma aspetta ma non mi scherzo eccomi io non ho ancora visto perché non depositano sei misti cosa? dove sei signore Mappe? al secondo piano alla casa di Sacco? sono già già a un livello abirizzo del mio ah no eccoti questa è che ha la casa mia? casa mia? non lo so se non so cosa vuole fare Sacco Sacco vuoi essere un inquilino? xox puoi vivere qua puoi iniziare ad arredare sappi che tipo poi lo capisci qua poi ci sarà il soffitto ma queste qua ho altre stanze? sopra sono sono altri appartamenti questo è un appartamento dove tu puoi stare puoi mettere dei muri puoi dividerlo sotto è comune ma la terra non mi fa mettere il seme questo è il primo appartamento questo è il primo appartamento questo è il primo piano non so allora è il secondo piano solo che nel primo piano non c'è niente di utile Mattei tu sai perché in alcune zone di terra non mi fa mettere i semi? ah ok va bene posso portare la mia roba quindi? si Mattei eh sai perché in alcune zone di terra non mi fa mettere i terreni? i semi? no perché mi... vabbè ho 22 adesso vado a fare un po' di eh ma io devo portare il mio... bingo in camera mia quindi bingo allora facciamo il pane ah ecco vieni vieni ovviamente è bingo boh abbiamo sette pani giacobo bello molto bene vieni bingo te ne do quattro povero quell'essere dai sacco no non hai pezzi di legno immagino vabbè bingo era il mio cane ah bisogna di andare a dormire ragazzi riuscire a farvi un letto a dormire io dormo con le pecore pur che sei un pastore sardo aioh non ho un letto io non posso farmi un letto dai dai immagino ci sia della lana dovrò uccidere questa pecore ma no è tutta qua la lana cioè c'è un cassone pieno di lana matteo lana costruisci legno ci sono i mostri del paraggio non si può dormire ma si ma si può dormire legno io no legno io cerco legno io non trovo legno legno mi sembra consul consuelo lì quello di dei griffin no no signor legno no caso ok ok signor no caso eh dove è la lana o no c'è no la lana sto spaccando un albero Giacobbo l'ha già fatta la spada per caso signor albero no caso i diamanti no non è avanzato un diamantino potremmo provare a fare quel glitch ti attraverai un diamantino trovo lasciato no dicevo con sto diamante potremmo provare poi a fare il glitch proveriamo poi ma non adesso no vabbè signor Batman quanto bello ti manca? dai Xox di muovere ok dimmi quando possiamo ah deposito la sella io eh però adesso motivo perché siete a caso sulle elezioni io deposito una sella se me la prendete o ammazzo esatto ecco ma ti piace il mio vestitino azzurro qua oh bingo mo meno per cazzo eh vieni o non vieni perché hai una cosa di diamanti? Giacobbo tu mi stai dicendo che avevi ancora tutti gli altri diamanti? li avevo salvati sì dai Giacobbo ma fai schifo sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì lasciato allora io il deposito un'armatura in ferro è una simpatica salla andiamo alla giacomo lo prendi te l'arco e che arco ce n'è uno ricordo che ne ha fatto è qua nell'altra vista scatola qua con la ricordo con due frecce non è che si fa molto ma vuoi tornare già sotto e volevo andare a vedere solo più quella zona ma no vabbè con calma dice regali inizia un po di cose varie poi torniamo ma io non ho materiale per francese appunto per questo c'è ricordiamoci un po il paesaggio sopra e poi torniamo come ci fa guinzaglio ti serve un coso di colla e 3 di corda mi serve quattro pezzi di corda ce la vede crocs posso dirti per la 26esima volta che sopra il tuo casa c'è mostro cattivo che fa boom tagliano esplodere perché tu non la illumini a proposito di sacco abbiamo salvato un po di quella petroluminosa alla fine 55 pezzi amato e una ricorda ce la vede aiutare una cosa che mi fa male ma so slam a casa sopra sopra secondo piano mi continua a piangere il cuore perciò che abbiamo perso lì sotto non riesce a essere l'unico no ma è in una delle casse della casa di legno se di roba la nota anche tanto ma non riesce se ce ne saranno tre però me ne manca uno di nove niente raccita no isacco questo è quello di xoxo e questo sarà il mio piano poi delle corde ce ne sono tre nella cassa ti ho detto madonna eh sì ma ne manca una io tre quelle tre io vedo il sacco se questo piano qua hai voglia di finirlo un po te con che pietra non ne lo finirò appena devo farmi di nuovo dei picconi ah no mi serviva le pezzi di ferro esatto tu non è che i due pezzi di ferro vero non ne manco più uno di due pezzi di ferro andiamo in miniera box mater per qualche pezzo di ferro per caso io ne ho uno ma sei della corda e della dopo non ricorda te l'ho già andata la corda madonna c'è ancora uno qua sta cassa c'è ancora uno sta cassa qua se ti guardassi un po li potresti prendere per i fatti tuoi la la come sei gara gentile grazie allora allora me siamo dei pezzi di legno per farmi poi i futuri picconi non so mi piange in cuore con tutto ciò che abbiamo perso abbiamo trattato le stelle come una cosa un sacco pensare di vision perché la tua voce non mi sembra convinta pensa tutto ciò che avevamo ma che c'è che c'è questo vetro qua a caso chi è ti amo se roma matteo questo vetro quale dei mille balli è molto petulante ma ci sono i fiori i fiori che fanno fanno belli non i fiori il vetro ma il vetro è perché non deve dare un senso di protezione ma tu dormi con me o da solo io al piano di sopra eppure io al piano di sopra quindi siamo nella stessa stanza no io sono sopra al tuo piano e guarda che chi ti ha preso la mia stanza ha messo un letto qua nella mia stanza l'ho messo io ho letto ah guarda che ce l'ho grazie ti amo se roma non ci voglio perché continuo pensare a tutti i sacri abbiamo fatto 2 sl dai possiamo andare a fare i grandi galocchini il sacco vuoi far john wayne anche i sacchi di fondo che cosa è che abbiamo perso a parte l'armatura voglio dire ferro vabbè loro ma vabbè loro non è importante vabbè ferro quanto da veri ma scusa vabbè non tanto però i diamanti no andiamo anche di lo salvati tutti no i diamanti io ho perso tre diamanti erano tre quelle serre capito no no io vado un po in miniera cos'è che da tokshoks io sono responsabile del ferro preso con due peccari ma è altro che mi chiede responsabile del cibo cos'è questo guarda solo io lo vedo io sono mai sottoterra vedete che arrivo eh lobo questi muri ste cose strane occhio allo slime gigante dietro di voi io vedo un isaac joe mortali no io sono sottoterra ai uomizi nel senso che sei morto se sottoterra no 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 nel senso che sei andato sottoterra avevo pure detto attento allo slime avevo pure detto ma quando non è ricorre ed è crashato quando l'ha detto ma l'ho detto adesso premonizioni barix perché c'è un isacco morto qua no ma è vero ma dove xox più o meno dove ci stanno le pecore non è che avete fatto le pecore dove c'è respawn vero non siete così furbi io sono spawnato lì prima te lo dico vabbè quindi questa può essere la risposta ho letto vabbè però che adesso che sono stato a letto al letto qualcuno sta guardando la live per vedere se c'è se c'è se qualcuno c'è scritto qualcosa ho perso tutto il muro di pagina ha fatto il vescovo all'isacco si devo andare per finire un progetto che no dove ti aspetta un resto tutti i muri 18 ma te indovina cosa c'è a milano tra pochi giorni non lo so dimmi tu c'è nel senso oggi domani e dopo domani c'è qualcosa di star wars non so dove ma te hai messo la possibilità di scrivere i commenti perché a me dalla schermata del video classico su youtube non mi dà come la barra dei commenti dovrebbe essere di lato e non c'è mi dà proprio la schermata classica di youtube ehm boh magari l'ho cosata per sbaglio vabbè niente non importa ma va pa una sera facciamo la live su oritz ma che su oritz no no te c'è ancora nessuno a parte che una sera non c'era voi no però la facciamo eh già Isacco che si connette 10 poi conta pure la mia scarsa voglia di voler fare oritz Isacco fallo solo per Valentino anche per Valentino il giocatore più forte di di pallavolo di pallavolo anche lì anche lì nei pvp batte max viaggi chissà come mai ma per la cronaca tutti i secchi sono salvi o cose io non ho 3 io ok un po' come Xox cazzo c'entro io tu sei tifoso di viaggi tu c'entri sempre ok ma ci possono fare i quadri perchè io non sono si puoi fare anche il quadro dove metti gli oggetti tuona Isacco questo è riuscita a piantare con la roba che dovevi mettere se devo prendere l'aspetta non lo so che dicevi che non te li faceva mettere e non lo so un qualche diamante un diamante mi piange il cuore generale Kenobi dai lo so che tanto qua vicino c'è l'altro comunque no non ci ho provato ancora prima non me lo è non me li faceva mettere bellissimo il video generale Kenobi oh di nuovo del ferro anche grazie signor Ferro Isacco non c'è di poi due pezzi di ferro stai dicendo Isacco che cosa io sto dicendo che è bello nel video che si sente un boggio che fa generale Kenobi Matte sei caduto male Matte anche a te se sono avanzati un po' di quella pietra luminosa me ne servirebbe qualcuna fare o non fare questo è il diverno non c'è a trovare ah esatto ho capito qual è il problema che dicevi e qual è cioè cos'è che non puoi trovare che ti sputta dei semi dopo che li hai piantati eh ma sai motivo ah eh no ci ho capito ah 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 non credo che sia per colpa dell'acqua cascata no perché mi penso prima è un tipo prima troppo a metter poi dopo no quello che mi ho messo ma se ho provato a rompere dopo l'attimo il flusso no no non incrociato i flussi è una trappola ma mi ha fatto mettere tutti ma beh meglio così non è che mi ricordate sempre una cosa non incrociate mai flussi oh e mo spengo no no ma me li ha fatti scommi di scommi di scommi io faccio come baglioni ovvero eh fai la rima no no ci ci sentiamo ciao ciao marco ciao 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 isaco non posso tentare due semi vicini se li metto vicini implodono e vengono stara ventaglia io ho bisogno di quarzo alla fine non tanto ma quel che serve per fare io ho tirato tutto ciò che ti chiedevo di quarzo non ho più niente vediamo se ce n'è subito lì le cani d'azzurro si possono tentare solo sulla sabbia vero si come anche le angurie no ah che spavento vedi della pietra se vieni qua sotto ne hai un butene da un po' arrivo però devi scendere devi farti quel percorso tortuoso sto scendo anche io trovo un altro po' di diamanti ma io ho trovato metto uno se uno però solo uno vabbè niente c'è sempre poco ma io non so dove sto andando perché è la prima volta che scendo ma no sei già sceso c'è sempre c'è sempre c'è sempre i progetti i miei io devo farmi la villetta eh ma perchè io non posso piantare sti segni delle balle eh prova a interrompere il flusso d'acqua poi il problema che riguarda vediamo se sono bastati 22 ma non credo c'è sempre c'è sempre c'è sempre c'è sempre aspetta aspetta c'è anche della diorite e anche del granito aspetta questo esatto continua a sputarmela fuori non capisco ma è anche interrotto il flusso si mi sa come metti ghostbusters per favore no copyright lo volevo sentire niente continua a sputarmela fuori ma sono sti due pezzi qua e ho poi risolvere quel problema con quel laghetto di lago eh niente niente non possiamo piantare non capisco no ecco qua hai provato a distruggere un attimo si si eh ma dai quando xoxo no 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 ma che cazzo sa di io che cosa cosa ho fatto da quando tu sei entrato qua non funziona più guarda un po vedete che sento io funziona mmm che è che sta bene così accadendo che buona l'acqua vabbè si sa come è fatto giacobbo uno che beve molto a voglia da tutti i dubbi che volgarità io non ascolto le volgarità ehi cosa stai facendo con chi ce vai con giacobbo che stai fa sto togliendo l'acqua ma scusa qua ce ne stava un altro pezzo di terra eh l'ho tolto per ora qua? e perchè? per ora l'ho tolto perchè devo mettere la sabbia qua e perchè devi mettere la sabbia? per coltivare le canne mmm ma tu ti fai sempre di canne oh mamma mia ma sox provaci tu sox pianta due semi distributi qua in questi due qua in questi due qua ok 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 porca troia ma perchè non va dicono quali queste idee hm parlo solamente di uno e perchè devo lasciare un buco lì che fastidio e questo qua lo levi e ci metti la sabbia ma che sabbia ah numero di ragno dove? no sotto a terra giacobbo io sto continuando comunque a a aspetta è avuto un problema con della lava a delimitare con la questo mare mare di lava è giusto così ma che dove sei? sono in un posto è esatto vengo a farti visitare uuuuh salvato vieni non ho piccone senta poco stacca allora facciamoci un piccone nooo nooo ma per fare un bel tavolo bisogna stare solamente gli assi isacco cos'è che ti serve che te lo porta? la che scende? no no che ce l'ho da meglio se vuoi c'è un piccone qua fai un immobile per te e me ti fa fare il tavolo ooooh per se vuoi essere molto stiloso fai i pistoni che danno la sensazione del tavolo però devi essere molto chic e e ci vuole è poco efficiente puoi puoi mmm come si poteva fare già che c'è non lo ricordo ah no devi mettere il un ah un pezzo di staccionata e con sopra una piastra a persona si oppure una un blocco o mezzo blocco di legno ma è meglio con la piastra eh ma non mi ricordavo se si poteva fare davvero ok qua c'è una lava io come una tappo sto cosa di laos and'a grazie all'and'a 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 ho perso cosa le casse no no quelle la salvate ah allora la mettila qua eh sono sopra oh poi la prossima volta che salgo scende che scende di nuovo ah lava inizio ad avere un problema con la lava eh aia aia via 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 qua c'erano i diamanti un po' di tempo fa che hanno fatto? eh lì in questa zona ne ho ritrovato uno guardo c'è sta scavo immenso perché avevo trovato i diamanti e ho sperato di trovarli altri sta a terra poi se vuoi venire a piazzare delle torce che io ho prendiamo un po' di dinamite Giacobb e ci divertiamo qua sotto eh a farla per la dinamite andiamo ad andare a caccia di creeper a caccia di creeper una nuova serie cdx ho paura c'è un blob che mi insegue mi crea timore niente questo tunnel esterno ah pietà rossa che castiglio ma perché con tutta la pietra che ho trovato potrebbe essere tutto diamante ok esatto c'è un blob sotto non so dove sei però ah no ok sei lontano ma lasciamolo lì dai ma questa lava la lasci così che cola? per ora si è molto artistico mi sembrava di aver trovato i lapislazuli però no non è vero oh è lapislazuli un'altra cosa molto artistica è lapislazuli che bello scavare quella pietra rossa ah fanculo pietra rossa ah mi piange ancora il cuore si 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 guarda che sacco basta ti devi soprare questo momento difficile non voglio più c'è la tetra rossa qua ti hai dimenticato? dove? ma hai un piccone per prenderla? no ma non l'avevo vista buona grazie metto una torcina qua poff poff i pistone come si fa ma no niente mi serve un lingotto d'oro eh si di ferro ce l'ha qualcuno? no si ma mi sta servendo dopo c'è il sacco io se ne hai cos'è? tre 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 no vabbè anche una 6-3 dai come sta venendo qua? mi da mettere a cuocere? ma si vabbè poi basta che in qualche modo c'è l'ho ma qua sotto è talmente pieno anche di pietra rossa che... che continua a sentire uno scintillo di esperienza Giacobbo vuoi una pietra focaia? ehm no ce ne sono tante sopra walt addio ah comunque quella quella lava l'ho lasciata così per ora perché se ci serve per bruciare qualcosa che ci occupa spazio per niente ah c'è la cassa entri se c'è qualcosa che non ci serve se c'è qualcosa che non ci serve va bene esatto ho risolto per il ferro l'ho trovato ah ok io sto quasi finendo devo andare ad acquisire questa pietra troppo buio non capisco di niente le sto scavando all'aceto nanananana nananan ni chihuahua Sorry bro io mi sono stancato di costruire questo enorme palazzo condominiale sox non è che devi scendere di nuovo è qua sotto un lingotto di ferro e non lo trovo se vieni qua sotto te lo do hai detto che te serve no 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 non mi servo su otto pezzi di di ferro però da cuocere 1 servono tantissime 21 finché non trovo altro ferro te ne posso dare una poi come trovato ferro 3 ho costruito un bruttissimo monumento basta che fai la mia stanza tu non a te non sono segnati i pavimenti a te non sono segnate nemmeno caso sai cosa ti assegno il segno sto facendo predator ci sto guardando aspetta la persona che dovrebbe costruirti casa è lì che sta correndo sto cambiando modo modo di visuale ti prego lasciami andare io volevo fare predator solo questo volevo dalla vita e la vita mi ha dato la morte cazan con il mare si è stato destra cosa più a sinistra a destra vai pietra rossa quanto stai giacobo se vuoi ti assegno tanta pietra rossa mio dio cala pietra rossa sa che faccio la pietra normale tacco dammi ferro cosa ha chiesto qua mi sta lagando un po' perro isaco quanta pietra rossa santa maria ah isaco aspetta fammi prendere sto ferro giacobo nooo mi parla chi ferro hai preso anche te ma io sto laggando tantissimo in questo momento dai isaco toh piglia sto pezzo è arrivato dalle balle dai dove siete voi tutti oh alleluia dammi sta cazzo di ferro ma chi giacobo perché? dov'è che siete? non mi sentivi eh giacobo grazie di dio dove siete? xox c'è ancora dove siete? sotto dove? xox io ci sono isaco in quella sotto problemi di latte isaco eh isaco come senti? isaco io sento Matteo e giacobo isaco sei bellissimo allora mi sa aspetta altra pietra rossa esaco vabbè scavare la pietra rossa qua ci penso io siete sotto di esaco che ha problemi di latte quindi non mi riesce a sentire secondo me sei tu che hai problemi di latte anche secondo me è una merda no perché me l'ha detto quando ti sei entrato nel party guarda che questo qua c'è qualche cosa di che non quadra eh c'è qualche cosa che non cosa c'è qualche cosa che stavo mica qua ad asciugare gli scoglie cosa sta facendo isaco cosa sta facendo dimmi cosa stai facendo in che senso ti vedo picconare il vuoto io piccolo pietra non lo so non so neanche quello che sta facendo ma comunque c'è ancora sì sì perché non lo sento Xox Xox ma voi lo sentite in questo momento o no? no ma se ne è andato senza dire niente devo staccare sono le 40 devo staccare che domani devo farmi 6 ore spedite sul computer mi sanguinano gli occhi ormai in sto periodo forse stavo sul computer disse ragazza che gioca la play finale 23.50 sì ma il ragazzo eh signorina bimba bimba per favore non me lo dire così però eh lascia una scia di pietra dietro di sé trovato del ferro trovato del ferro trovato del ferro trovato del ferro ehi bimba ma te hai un po' c'è sì ma ti va con un po' di luce accederà la ah l'ho vista l'ho vista me ne vado piano piano scavo dimmi quando posso bucare che voglio bucare ti prego vai sono lontano metto già una pietra avete cibo no disacqua del cibo perché non c'è la spinta nel nostro gioco ehi disacqua del cibo no cibo no dai io adesso sto ma non è che vai a costruire sopra lascia qua noi io voglio del cibo muro lo vivo muro lo vivo ah ho un piccone sto scappando altrove sto scappando la pietra quindi adesso finisce la lava secondo me ho trovato diamanti o finisce la lava sto salendo non mi sembra una buona idea caduto no no io sto ben andando piccone vero vabbè io scavo altrove se permettete no matte matte basta però che se no qua non capiamo più dove abbia scavato oppure no non lo saprei mai dove hai scavato dai matte piantala piantala che poi qua finiamo grandi cose sprechiamo soldi che poi finisce come in italia posso farvi vedere una cosa prima che io muoia perché che cosa Giacobbo altre due cose di pietra rossa aspetta che tolgo solo sta pietra è un rumore di pipistrello venite solo a vedere Xoxx un secondo e poi io spaccherò ma Xoxx io lo sento e venite vi voglio far vedere dov'è ma te posso darti dopo tutta la pietra rossa che ho si ma la metti si che non è me ne so più che farmene portatemi verso Xoxx Xoxx si è perso qua sotto è qua a sinistra cosa sta facendo questo ragazzo voi non dovete dire niente capirete appena vedrete perché l'hai chiuso di lei cosa fa aiutatemi a finire questa cosa che ho fatto qualcuno ha un secchiello no lo riempivamo di lava datemi un 64 e aiutatemi a fare questo lavoro io stacco dai che le tardi per me dai Matte ti do sta pietra rossa e stacco Matte si sono qua prendi tutta questa pietra rossa bene ce l'hai qualche pietra qua da chiudere Xoxx bene bene io lo sapevo che mi doveva derinchiudere ringraziatamente abbiamo messo la lava a chiudi 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 chiedi chiudi no è uscito prima l'hai detto ho visto dai sprecchiamo così i materiali Matteo dai andiamo a salutarci sopra no no io ci salutiamo qua poi un altro giorno usciremo da questo posto io penso che ormai ci vivo qua sotto faccio un letto l'uomo talpa eh infatti mi sa che lo porterò poi qua sotto per un po' un letto ora se ne fai un altro dai 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 Matteo salutiamoci che tardi buonanotte io vi auguro una buonanotte che si vedevi al canale anche eh non credo che nessuno sia arrivato fino a questo punto infatti quindi vabbè però per chiunque ci sia arrivato grazie e iscrivetevi al canale secondo me tipo i camionisti che rimangono fino a fino a tardi voi voi che siete in viaggio un abbraccio un saluto carissima buonanotte buonanotte grazie per averci seguito buonanotte